Corus Line è il musical dei musical. Sono una regista giovane, regista giovane in erba perché poi ho 25 anni di palcoscenico e quindi mi sento un po' intimorita, come giusto che sia. Per fortuna non sono una presuntuosa, quindi mi pongo con grande rispetto di fronte a Corus Line e a chi l'ha diretto prima di me e quindi con grande rispetto cerco di fare un Corus Line 2.0. Secondo me il mondo si divide tra chi ha fatto Corus Line e chi non l'ha fatto perché è veramente una scuola di vita, una scuola di disciplina perché tutto quanto ha un suo significato, una sua posizione, un suo perché. È uno spettacolo di una modernità incredibile e ha proprio mutato il concetto di musical nel mondo. Tra l'altro è di un compositore incredibile che è Marvin Hamlisch. Soprattutto ho partecipato a tutte le edizioni italiane di Corus Line, quindi sono stato in scena ben 502 volte in 5 ruoli diversi. In questo caso io dico che è un po' un tassello che va al suo posto, cioè il fatto di essere qui per rimontare le coreografie, non perché io sia chissà chi, però proprio perché c'è tutto questo passato di un materiale che è entrato dentro di me che io sono pronto a restituire alle nuove leve, ai giovani e a tutti quelli che fanno parte di questo cast. Allora Corus Line è il musical dei musical, il più longevo di Broadway e noi uniamo insieme un cast di 25 performer pazzeschi. Abbiamo cercato di scegliere i migliori che ci fossero in giro, io credo che sia una formula da bomba.